Giacomo Rossi del presidente del movimento civico fronte di azione popolare della provincia di Pesaro Urbino. Ciao Giacomo. Saluto a te e a tutti gli ascoltatori. Ok, allora noi ti abbiamo chiamato non per parlare di programmi in questa puntata, ovviamente ti seguiremo perché apprezziamo molto quello che fate, ma vogliamo parlare del fatto che voi avete deciso di non andare a votare e siccome siamo sotto lezioni ovviamente bisogna parlare assolutamente di questo. Quindi la prima domanda che ti faccio, per quale motivo avete deciso di non andare a votare? Semplicemente perché ci siamo stancati di votare il meno peggio, naturalmente non voteremo Spacca che tenta per la terza volta di riprendere la presidenza della nostra regione e con lui i suoi alleati, in questo caso Forza Italia, è ridicolo che un partito che ha versato lo stesso Spacca per dieci anni ora ci vada a braccetto. Naturalmente non possiamo sostenere nemmeno il partito democratico in quanto con lo stesso Spacca ha governato in mal modo la nostra regione e soprattutto ha compiuto politiche entroterricide, ecco io le chiamo così, quindi assolutamente da non votare le due coalizioni di PD e Marche 2020 Forza Italia. Ecco detto questo, quindi abbiamo questo finto divorzio tra Spacca e PD, in realtà sappiamo che già ci sono gli accordini pronti, probabilmente il PD, almeno stando agli ultimi sondaggi che sono arrivati, non dovrebbe riuscire a raggiungere la maggioranza, ovviamente con un bel accordino con Spacca già messo dentro. Altro discorso poi super inciuccio dove anche Forza Italia si è alleata con Spacca, quindi si sentono già abbastanza sicuri. Ecco il punto è proprio questo, cioè Giacomo il discorso è questo, se noi vogliamo contrastare questo sistema dovremmo in qualche maniera fare un voto magari facendo anche la conta, chiudendo gli occhi e portando avanti magari qualche personaggio dell'entroterra perché poi quello è un altro discorso che tecnicamente magari vediamo dopo, però so che magari non è tutte rose e fiori, però ci sono altre tre scelte, cioè abbiamo praticamente l'alleanza, quella attorno a Fratelli d'Italia, quindi Lega, Fratelli d'Italia e l'altro alleanza nazionale e poi abbiamo questa scelta di sinistra di Mentasti e poi abbiamo il Movimento 5 Stelle. Proprio tutto da buttare via? Allora ci sono alcuni personaggi all'interno delle liste che io reputo comunque validi, ma naturalmente la risposta è quella che ho dato all'inizio, non vogliamo votare i peggio ma ci siamo rotti le scatole di votare anche i meno peggio, in questo caso sono queste tre coalizioni che ci hai appena ricordato. Non possiamo votare la coalizione Lega, Fratelli d'Italia innanzitutto perché presenta come candidato Acquaroli che è indagato, si ricordino anche le nostre proteste pochi mesi fa davanti alla regione che appunto come televisione avete anche seguito e quindi non possiamo accettare che di votare un presidente indagato e di indagato per delle spese pazze in regione, secondo me indagato è praticamente anche quasi colpevole. Un accordo tra l'altro tra Fratelli d'Italia e Lega Nord che non è avvenuto nel nostro territorio ma che è stato in imposizione dall'alto, alla faccia di quello che dice la Lega della territorialità, dell'autonomia dei territori, ecco noi ci siamo dovuti sorbire questa unione fatta dalla Meloni e da Salvini, tutto ciò è inconcepibile per le nostre logiche anche molto territorialistiche, anche del fronte d'azione popolare ma di tutto il nostro coordinamento civico regionale che si sta creando nella nostra regione. E c'è da dire poi anche delle altre due coalizioni, la coalizione di sinistra, le altre marche che presenta sempre persone riciclate, persone che hanno fatto sempre la stampella di questo PD che ora in un'altra veste si riciclano. A qualcuno possono propinare questo inganno? A noi assolutamente no, anche se qualche punto all'interno della stessa lista delle altre marche della sinistra è comunque un punto, ci sono dei punti comunque così condivisibili. Per ultimo il Movimento 5 Stelle, il Movimento 5 Stelle si basa su due punti fondamentali, la trasparenza, ecco io voglio chiedere e l'ho detto anche pubblicamente ad un'assemblea del 5 Stelle, come possono parlare loro di trasparenza quando i loro candidati vengono scelti attraverso un voto online che nessuno controlla. Quindi nessuno sa se realmente il presidente candidato Maggi sia una persona veramente eletta dal popolo. Finché il Movimento 5 Stelle non si struttura su tutto il territorio e diventa un movimento reale, caleranno sempre. Questo non lo dico io, ma lo dicono i voti. Io stesso ho votato 5 Stelle per le ultime due elezioni che ci sono state alla terza purtroppo per loro e purtroppo anche credo per me non mi sento più di poterlo votare. Tra l'altro 5 Stelle che ci propone dei candidati che veramente non ne sanno assolutamente niente di quello che è il nostro territorio. Ecco io qua nelle liste a Pesaro Urbino ne salverei a malapena due, due che conoscono più o meno la realtà, gli altri non sanno nemmeno veramente di quello che parlano e quindi uno spero che sia Fabri. Sì, un ottimo candidato. Lo stimo molto. Quindi dare la propria preferenza insomma a delle persone che sono state scelte da dei click io ho veramente dei dubbi. Poi ecco lo stesso Movimento 5 Stelle che ancora rimane un partito verticistico con un padrone al vertice, con uno staff quindi un gota che eletto da nessuno che decide quelle che sono le nostre decisioni appunto. Io ci sono rimasto scottato già diversi anni fa con alcuni partiti del sistema dai quali sono uscito, mi sono veramente stancato di votare il meno peggio e quindi questa sarà una scelta consapevole, una scelta di non votare. Ecco, il problema è questo Giacomo, in termini di... allora voi avete anche collaborato per esempio con il Movimento 5 Stelle ma non solo, cioè non siete voglio dire chiusi, ecco non avete questi problemi che hanno il Movimento 5 Stelle, cioè quello sostanzialmente di non fare alleanze, no? Che è il dramma, è il problema. Ecco. Cioè perché delle alleanze magari con dei corrotti, con della gentaglia eccetera non vanno fatte ma con altre persone che magari hanno anche altre esperienze, provenienze politiche, si può nella vita anche cambiare idea, si possono fare tante cose, tanto più da un Movimento che reclamizza, no? Il fatto di non essere né di destra né di sinistra e questo è veramente un problema. Ma quindi cosa vuol dire? Cioè non poter fare più politica insieme con il Movimento 5 Stelle o che cosa? Perché questo è un aspetto importante perché alla fine contano i numeri. Ecco, appunto questo è il secondo punto per il quale non possiamo votare il Movimento 5 Stelle per il semplice fatto che lo stesso Movimento pur candidando persone oneste, persone pulite, persone che lasceranno la metà del proprio stipendio nel cassetto regionale, quindi per questo io li reputo ancora in meno peggio, però non possiamo votare un Movimento che nel momento delle battaglie, nel momento in cui noi anche del fronte d'azione popolare, abbiamo fatto delle battaglie insieme a loro e li abbiamo portato tutta quella che è la nostra esperienza, eravamo ben graditi, ma nel momento elettorale ci sono solo loro. E li nascono i problemi. Ci sono solo loro. Quindi un Movimento che voglia radicarsi credo che debba avere rispetto per i movimenti, per i cittadini, per i comitati che ben prima di loro lottano a favore del territorio e credo che un'alleanza con i movimenti civici, con i movimenti che, perché no, sottoscrivessero insomma i loro anche intenti, sarebbe stata la soluzione migliore e anche la soluzione che avrebbe veramente insediato poi il Partito Democratico e sicuramente gli avrebbe tolto quello che è il primo di maggioranza. Quindi la colpa non è nostra, ma la colpa è di chi, come il 5 Stelle attuale, ancora taglia fuori tutti coloro che non sono con loro strettamente della loro cerchia. E questo è un bel problema. È un problema grosso. È un problema grosso e io, da ex votante 5 Stelle, mi auguro veramente che il Movimento possa rendersi conto e possa aprirsi uno agli altri, due, ritrovare, anzi, trovare. È una guerra, è una guerra con i propri capi. Il problema è che lì dovresti proprio togliere la gestione Grillo e Caserleggio, un bel problema. Purtroppo anche qui ci sarebbe molto da dire. Un partito che sostanzialmente è proprietà del proprio capo. Se si parla di cambiare le cose, se si parla di trasparenza... Ecco, tanto più che, per esempio, se si doveva seguire una certa coerenza, all'europea il Movimento 5 Stelle non avrebbe dovuto prendere il posto perché non doveva fare alleanze con, tra l'altro, dei gruppi anche poco omogeni con lo stesso Movimento. Sei d'accordo su questo? Certo, poi ci sono realtà anche provinciali, non tanto lontano. Per esempio, Fano, dove il Movimento 5 Stelle si è alleato con un Movimento civico. Mentre, soprattutto in diversi comuni, purtroppo non è stato fatto questo. Anzi, faccio proprio un esempio del Comune di Cagli, dove i grillini cagliesi hanno avuto ben l'intuizione di non presentare una lista 5 Stelle, ma mettersi insieme con tutte le persone civiche, fare una lista e poi hanno vinto. I dicta del 5 Stelle erano contrari, cioè fare una lista completamente del 5 Stelle, ma questo avrebbe significato far rivincere di nuovo il Partito Democratico. Quindi abbiamo già degli esempi propositivi dove il 5 Stelle, se si allea e si riesce a trovare intese con movimenti, comitati, cittadini, riesce a fare qualcosa e riesce anche a prendere le poltrone. Le poltrone non nel senso negativo, ma nel senso positivo. Quindi inizi col 5 Stelle, poi ti tocca disobbedire agli ordini, uscire, perché a quel punto dovrai uscire immagino dal Movimento, per fare una lista. Sarà stato così in questo caso. Certo, sì. Sì, perché non puoi fare alleanze. Sì, non puoi fare alleanze. Ecco, e i dicta del 5 Stelle erano questo. Ed è questo il vero punto, perché il paradosso è questo, no? Condividere una linea, fare anche dei percorsi insieme, quindi delle battaglie, e poi dover fare per forza un divorzio quando è il momento delle elezioni, che è il momento più importante. Certo, ma se continuano così, hai per loro la situazione non può che essere negativa, nel senso che dal momento in cui hanno avuto l'espluat, il 5 Stelle a livello nazionale, ha avuto poi nei territori sempre un calo drastico dei voti. E' ovvio, per queste regionali diranno, abbiamo eletto dei consiglieri regionali, ma dovremmo confrontare poi i voti che il 5 Stelle ha preso qui a livello nazionale, che è circa il 30%, con i voti che poi prenderà, ecco, alle elezioni regionali, che sicuramente saranno veramente di meno. Ecco, io tengo a dire che noi abbiamo chiesto appunto delle intese con il Movimento 5 Stelle, abbiamo chiesto di poter avere delle intese anche con la Lega, perché ritenevamo che fosse comunque un partito fuori dagli schemi, e 5 Stelle ci ha risposto naturalmente picche. La Lega lo stesso, purtroppo, presenta... Ma c'è la Lega? Lo dovremmo chiedere al segretario regionale Paolini. Va bene, da un punto di vista, diciamo, neanche abbastanza angosciante, il fatto di non poter fare sostanzialmente nulla, solo l'idea di aspettare 5 anni per arrivare alle prossime elezioni, io sto male già in partenza, non penso che tu stia meglio, da questo punto di vista. Io sto meglio per il semplice fatto che i movimenti civici che hanno tentato in questa elezione di mettersi insieme e non ci sono riusciti, in virtù anche di alcuni tradimenti e in virtù anche della difficoltà di creare appunto una proposta elettorale grazie, tra parentesi, o meglio a causa di questa legge elettorale regionale, dicevo i movimenti civici si sono comunque visti, messi insieme e già da ora stanno lavorando tutti insieme per portare avanti un coordinamento civico regionale che possa iniziare anche magari nelle prossime elezioni comunali ad esprimere perché no dei propri candidati ma comunque indipendentemente da tutto continuare a fare politica perché non necessariamente si deve essere all'interno delle istituzioni per poter portare avanti delle battaglie politiche perché no, anche ottenendo qualche risultato come abbiamo avuto noi in passato. Ok, ecco, l'ultima domanda che ti vorrei fare è questa noi stiamo cercando di lanciare, vabbè tu puoi anche dire che magari è una cosa inutile, perdo tempo però voglio dire, noi siamo una tv siamo una tv, diciamo se vogliamo, tra virgolette, contro il sistema è anche un po' demagoga, ci definiscono così in realtà secondo noi i demagoghi sono chi spara grandi programmi e poi non fa mai nulla mi fa onore arricchisce le proprie tasche, che è un altro discorso ecco, noi stiamo cercando di fare una cosa molto difficile prendere tutto quello che ci può essere almeno come dichiarazioni formali sul territorio quindi parlo di sindaci, parlo di tecnici senza guardare in faccia a nessuno cioè veramente di qualsiasi colore e cercare di lanciare un'iniziativa cioè fare dei gruppi di lavoro comune per vedere se è possibile creare almeno una linea di intenti soprattutto adesso che arrivano dei finanziamenti della comunità europea per creare dei progetti cioè proprio specificatamente in questo caso per l'entroterra perché noi nasciamo ecco, come tv abbiamo vogliamo specializzarsi in questo valorizzare principalmente gli entroterra perché riteniamo che sono molto trascurati entroterra della provincia di Pesarubino ma anche più là forse qual è il tuo punto di vista su questo? cioè se io come tv quindi ti facessi un invito a te e il tuo gruppo vuoi collaborare con una serie di persone che magari non condividi politicamente però almeno mettersi a un tavolo e incominciare a capire se ci sono almeno degli intenti da poter condividere per fare un gruppo di lavoro e quindi creare un progetto dove poi ognuno politicamente cercherà di portarlo avanti a suo uso e costume, diciamo cioè nel senso in maniera indipendente? Certo, senza nessun problema se si parla appunto di poter dare una mano al territorio noi questo tra l'altro l'abbiamo anche fatto con le nostre battaglie abbiamo coinvolto comunque tutti il problema è che i partiti soprattutto tradizionali quindi Forza Italia, PD, Marche 2020 e Affini purtroppo mettono sempre davanti quelli che sono i loro interessi particolari i loro interessi clientelari i loro interessi di lobby e purtroppo quando poi si va a quagliare i finanziamenti sono indirizzati sempre nei confronti di certe persone le politiche si fanno sempre per determinate porzioni di territorio è ovvio, poi magari agli incontri negli slogan si parla anche tutti uguali però quando si va poi a quagliare a fare progettualità e ad ottenere qualcosa ahimè le visioni sono differenti perché no? Io mi auspico comunque che qualcosa anche insieme per il territorio si possa comunque sempre fare i problemi non li creiamo noi ma li creano i partiti che fino adesso sono stati quello che intendevo io cioè intendevamo noi come tv era quello proprio di portare avanti cioè diciamo dei programmi alternativi cioè alternativi proprio alle botteghe di partito questo è poco ma è sicuro l'ultima domanda proprio al volo al volo sentiremo parlare di te presto o per adesso diciamo ci prendiamo una pausa di osservazione? Ma guarda io vorrei che iniziaste a sentir parlare del coordinamento civico Marche che stiamo costituendo con le vere liste civiche di tutte le Marche quelle liste che realmente vivono il territorio quelle liste che sono uscite dai partiti uscite dai partiti politici e dalle lobby di potere locali e sovralocali un coordinamento che si sta creando e che spero dopo l'estate possa avere una sua organizzazione per affrontare a primavera le prossime comunali che ci sono anche nel nostro territorio Benissimo speriamo che ci dai almeno un'esclusiva sulle anticipazioni Certamente Ok, grazie Grazie a voi Grazie a voi